Mi piace che non sono più in aula il gruppetto di amministratore. No, c'è una magra più grande. C'è una magra più grande che difende la categoria unica. Comunque volevo nella seconda parte, anche se il coraggio è più contenuto, un punto durata, parlare per esempio di un uso che noi riteniamo molto positivo dal revisore, inteso non come terrorista dell'attività, di controllo dell'amministratore. Per un lato, per un meno, diciamo che nella nostra attività sia di amministratore, sia di revisore, perché insomma è anche un collega vostro, abbiamo messo a punto insieme a me, diciamo con la collaborazione di Gabriella, che è la mia socia dell'attività di gestione di Gm Ponte Bergamo, perché Giuseppina che è qui oggi si presenta come nuove, come nuovo, deputore di Prato, noi da qualche mese in più lavoriamo bene, ma quindi siamo anche molto contenti di essere stati ospitati e di dare le nostre collaborazioni. abbiamo quindi messo a punto una serie di attività, credo molto importante per gli amministratori, che è la gestione del passaggio delle conseguenze, che avviene quindi tra l'amministratore che perde un condominio e l'amministratore che acquisisce invece il condominio. perché direi che l'amministratore esercita la sua attività esattamente iniziato con un passaggio di conseguenze e in quel momento diventa l'amministratore di quel condominio e quindi è in quel momento, nel momento della nomina da un relato, nel momento dell'accettazione dell'incarico dall'altra e a conclusione del passaggio dei conseguenze che la sua responsabilità nei confronti della tua pagina fondamentale si completa e si perfeziona. il passaggio dei conseguenze abbiamo valutato negli anni essere molto delicato e molto critico e questo perché fino ad oggi sostanzialmente il passaggio dei conseguenze è stato sempre subito dagli amministratori entranti, nel senso che si sono provate sul tavolo una documentazione che era quella che veniva data dall'amministratore precedente senza neanche valutare fino in fondo il tipo di responsabilità che avevano assumendoci, accettando così per buono quello che avevano quindi quello che abbiamo pensato di fare, avvenendoci anche nell'esperienza del nostro essere revisore, è quello di andare a governare nel momento del passaggio dei conseguenze. il revisore quindi è stato utilizzato, è stato proposto un'attività dall'amministratore un'attività di assistenza all'amministratore che acquisisce un condominio nuovo il revisore quindi ha assieme all'amministratore entrante, prima del passaggio dei conseguenze è chiamato a costruire assieme all'amministratore entrante una sorta di check list, una vera e propria check list sulla documentazione che ci si attende da quel condominio che occupa le caratteristiche con quegli impianti tecnologici, con quella organizzazione degli spazi e delle attività e quindi tanto per fare un esempio, oltre a una documentazione di corredo obbligatoria per cui i 10 anni di contabilità, i 10 anni di rendicontazioni, i 10 anni di modelli 770, anche per tutte cose che sono ovviamente obbligatorie, quindi diciamo da cui si può non prescindere e non si deve prescindere, abbiamo anche pensato di andare a costruire una mappa di altri documenti che quel condominio con quali caratteristiche deve necessariamente avere del suo archivio documentale per esempio se c'è un'autodimessa intervata superiore a 350 metri quadri, è ovvio che ci deve essere la seconda di capito di condizione di incendi, se vi sono ascensori ci deve essere ovviamente certificati di conformità, di coraggio ascensore, ma ci devono anche essere i verbali delle verifiche periodiche degli ascensori e per tornare al discorso di cui parlavamo prima, cioè di che cosa può starsi all'interno di una nota serendica esplicativa, per esempio nelle questioni pendenti il fatto che l'ascensore sulla base dell'esito della verifica periodica indichi e prescriva negli interventi e l'adeguamento dell'ascensore è un elemento di natura patrimoniale della questione pendente che va chiaramente in nota esplicativa abbiamo valutato l'opportunità anche di valutare se l'edificio è in un contesto di edilizia convenzionata perché le convenzioni sono una fonte molto importante per eventuali azioni di responsabilità di valutare con fronte agli amministratori, c'erano stati a Milano o a Milano, intanto per fare un caso stiamo parlando di casi pratici, questo è un caso pratico, l'amministratore è stato condannato perché una persona nel parcheggio adiacente al condominio che tutti pensavano fosse un parcheggio pubblico mentre invece nella convenzione sottoscritta con il comune che era ad uso pubblico ma di proprietà comunale un tombino era stato asportato e la persona è scivolata e cascata se l'amministratore l'amministratore non aveva la consapevolezza che quella area esterna che tutti consideravano un'area pubblica perché era un parcheggio pubblico in realtà era un'area privata quindi la convenzione è un esempio di documenti che vanno richiesti come vanno richiesti ovviamente tutta la serie di altri bianchi documenti quindi appuntamenti dell'acqua, delle visite periodiche di piante di messa a terra cioè sostanzialmente l'amministratore può aiutare l'amministratore subentrante a costruire una checklist di carattere documentale che ha non solamente lo scopo di responsabilizzarlo rispetto alla carenza documentale che si trascina e quindi viene quindi da presente amministratore o che a sua volta che l'amministratore si trascinava da un precedente passaggio di consigli ma soprattutto ha la possibilità di relazionare alla Sendea quello che è il quadro documentale e le carenze documentali che ha rilevato, anche questa è una questione che nella nota spiegativa va indicata l'assenza di un quadro documentale a completo rappresenta una questione patrimoniale che ha anche un suo valore tecnologico perché come si è detto anche i documenti hanno un valore perché la ricerca di un documento comporta un incarico di tipo professionale quindi un posto per andare al completamento del quadro documentale quindi il revisore ha avuto e nella nostra esperienza ha un ruolo importante nell'assistenza che viene data all'amministratore nel passaggio delle consegne anche se questa assistenza da un lato certamente viene vissuto in un ruolo un po' conflittuale cioè dall'amministratore